Nella mia vita artistica mi hanno fregato tantissime volte e in questo video ve le racconto e vi racconto anche quando hanno smesso di fregarmi e perché, perché è molto importante. Allora, la prima volta che mi hanno fregato, diciamo la prima fregatura, è stata un'agenzia di booking che si era presa tipo 250 euro al mese per, in teoria, fare promozione, quindi chiedere le recensioni e trovarmi date. Dopo tot mesi così, il risultato è stato che sono uscito tipo due recensioni, ho avuto una data brutta, ci ho perso pure i cd perché gli avevo lasciato un pacco di cd da spedire per le recensioni e sostanzialmente non è servito a niente. Tra l'altro, aperta parentesi, dopo ho anche scoperto che il tizio era un cocainomane, ma questa è un'altra discussione. Poi, la seconda volta che mi hanno fregato è stata con una delle mie vecchie band metal, praticamente avevamo firmato con questa etichetta, che tra l'altro è ancora attiva, che ci aveva chiesto tipo 5000 euro, mi sembra, qualcosa del genere, per registrare per forza nel loro studio. Questa è una delle cose che molte etichette fanno, perché col fatto che dai dischi sanno già che non ci guadagneranno una cippa, l'unico modo che hanno di guadagnare è associarsi a uno studio di registrazione, obbligarti a registrare in quello studio e farti pagare tanto la registrazione. E così hanno fatto. Inutile dire che ovviamente anche in questo caso non è servito a niente, poi qua in parte è stata colpa nostra, che poi a un certo punto ci siamo anche sciolti, però comunque direi la possiamo annoverare tra le fregature, perché comunque è un ricatto. Un'altra fregatura sono stati i concorsi, grande fregatura e concorsi. Tu ti iscrivi illudendoti che sia una battaglia ad armi pari, cioè di avere una chance, che in realtà è già tutto scritto e è già deciso chi dovrà vincere, oppure devi vendere i biglietti, anche lì per far guadagnare l'oro, insomma, tutte delle, spesso delle enormi truffe, ma d'altronde anche quelli famosi di festival che trasmettono sulla Rai non è che siano molto diversi, quindi giustamente anche quelli piccoli si adattano. Per non parlare poi di tutte le fregature dei locali, quando tu pattuisci che ti verrà dato un compenso, poi vai lì, finisce il concerto e siccome c'era poca gente, sai che c'è, ti diamo la metà del cachet. E tu non ci puoi fare niente perché tu sei da solo e intorno a te c'è tutto lo staff con le braccia incrociate che ti guarda male pronto a pestarti, che è una cosa che è successa. Ed è ancora più fastidiosa che sia successa a Catania e che io abbia dovuto prendere un volo da Milano per andare a Catania, quindi pagarmi l'aereo, pagarmi l'albergo, diciamo, e tutto quanto per fare una data che poi ho guadagnato tipo 50 euro, non so, qualcosa del genere. Quindi direi non è bello, soprattutto non è bello il trattamento che mi hanno, diciamo, assicurato. Quindi ogni tanto ci penso ancora, avrei voglia di andare lì e dare fuoco al locale. Questa e mille altre fregature sono successe in questi vent'anni di musica. E sai quand'è che hanno smesso invece di fregarmi? Quando ho preso in mano le cose, quando sono diventato autonomo. Perché quando ho cominciato a studiare il marketing, ho cominciato a gestire il mio progetto a 360 gradi, non ho più avuto bisogno di nessuno, non dipendo più da nessuno. Quindi non mi serve l'etichetta per pubblicare la mia musica, me la pubblico da solo. Non mi serve il manager per rispondere alle mail, posso rispondere da solo alle mail. Non mi serve l'agenzia di booking per le date, o meglio, lì un pochino servirebbe, perché in Italia la situazione è abbastanza chiusa, quindi senza booking è un po' difficile. Però comunque, diciamo, posso anche farne a meno, posso provare da solo a trovare le date. Se voglio farmi delle grafiche o dei videoclip, volendo me li so fare da solo. Poi, se voglio delegarlo, lo posso delegare, ma almeno sono consapevole se mi sta fregando oppure no. Perché io so montare un video. Quindi se poi il mio videomaker ci mette sei mesi a montarmi un video e me lo fa pagare tantissimo, so che mi sta fregando. Quindi so di cosa stiamo parlando. E gli posso anche dare indicazioni migliori, perché prima lo facevo io, quindi gli posso dire voglio la color così, voglio quello cos'ha, eccetera. Non ho bisogno di pagare qualcuno per farmi la promozione, tantomeno playlist piene di bot e altre fregature. Quindi tutte queste cose qua non sono più fregature per me, perché o ne posso fare a meno, o nel caso decido comunque di collaborare con qualcuno, sono in grado di capire se mi vuole fregare oppure no. Perché so fare da solo queste cose qua. Quindi, la morale di tutto questo discorso, il motivo per cui faccio questo video, è che da una parte queste persone sicuramente hanno sbagliato a fregarmi, perché sono state disoneste, purtroppo il mondo della musica è pieno di questi pezzi di merda. Ma dall'altra, parte della colpa è anche mia. Perché sono stato colpevole di delegare a qualcun altro la realizzazione dei miei sogni. Ed è ovvio che agli altri non fregherà mai, quanto me ne frega a me dei miei sogni. Poi, possibilmente non dovrebbero fregarti, ma comunque sono stato stupido io a delegare agli altri cose che avrei potuto fare da solo. Quindi, quello che ti consiglio è cerca di diventare più autonomo e più indipendente possibile, perché solo in questo modo innanzitutto avrai il controllo dei tuoi sogni, visto che sono tuoi sogni, non puoi delegarli a qualcun altro, e secondo ti eviti un sacco di fregature. Perché agli altri non gliene frega niente del tuo sogno, per loro sei uno dei tanti clienti che hanno, e in più, purtroppo, è pieno di gente disonesta. Quindi, per questo motivo, alla fine sono diventato un musicpreneur, quindi un musicista che è anche un imprenditore, e che si prende cura di tutti gli aspetti del suo progetto a 360 gradi, perché sono stufo di essere fregato, sono stufo di avere a che fare con teste di cazzo di vario tipo, di gente che se la tira, di gente che non sa mantenere una scadenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, il mio sogno me lo gestisco io, lo proteggo io, e combatto io per il mio sogno. Poi, quelle poche volte che ho bisogno di affidarmi a qualcun altro, sono in grado di accorgermi se è una persona che sa fare il suo lavoro o no, e nel caso comunque saltasse la collaborazione, sono comunque in grado di gestirmi da solo. Quindi non dipendo da nessuno. E credo che l'unico modo per essere veramente liberi sia questo, non dipendere da nessuno. Quindi diventare totalmente indipendenti. Proprio come dei Ronin, cioè dei samurai senza padrone, che non rendono conto a nessuno, vanno per la loro strada e combattono per i loro interessi, non per quelli di qualcun altro. Quindi questa è stata un po' la storia delle mie fregature. Se volete scrivetemi le vostre nei commenti, così ci consoliamo a vicenda. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao guerrieri!